Gabriele Paletta, il giorno dopo, Atalanta-Ellas-Verona, le sensazioni quali sono? Siamo un po' mareggiati sicuramente, abbiamo la partita lì in mano e scappata all'ultimo minuto, all'ultimo secondo, non all'ultimo minuto. Però penso che dobbiamo vedere il lato positivo, la prestazione l'abbiamo fatta e dobbiamo continuare su questa strada. Tu prima in conferenza stampa hai detto che eravamo contenti per il gol di Maxi, siamo andati, abbiamo esultato, poi forse eravamo un po' troppo nervosi in questi ultimi minuti di partita. Sì, freddolosi, non abbiamo tenuto palla, penso, con un uomo in più, non abbiamo gestito meglio la palla, è il punto. Penso che facendo un po' più di possesso con i minuti che rimanevano, potevamo portare a casa il risultato. Quindi amarezza, se pensi ad Atalanta-Ellas-Verona, un aggettivo, cosa ti viene in mente? Sì, perché abbiamo fatto tutta la partita quasi noi, loro hanno tirato pochissimo in porta e quella è la cosa che si ha più rabbia. Però dobbiamo continuare su questa strada che sicuramente arriveranno delle soddisfazioni. Questa strada e su questa strada il primo ostacolo da superare adesso, già giovedì, Lempoli. Sì, sì, una squadra dura, tosta, che giocano insieme da tanto tempo, hanno cambiato qualche giocatore, anche allenatore, però sanno, ognuno sa cosa fare e speriamo che sia una partita bella per la gente e importante per noi, speriamo di vincere.